Vergognoso! Un gruppo di tifosi juventini manca totalmente di rispetto alle 31 vittime dell'incidente aereo avvenuto 1949 a Torino Zang invece è un mago, ha trovato la miglior soluzione per lui, ieri si è parlato tantissimo di arabi all'Inter oggi spunta una nuova grandissima notizia che adesso andiamo ad analizzare insieme inoltre Countdown seconda stella manca sempre meno, ma quanto manca a livello matematico analizziamo la situazione insieme perciò carissimi amici vi do il benvenuto in questo nuovo video, se vi va iscrivetevi al canale YouTube è un click, vi costa assolutamente nulla, a me invece fate un grandissimo regalo, fate qualcosa che questo progetto possa andare avanti perciò vi ringrazio davvero di cuore iniziamo forse con la brutta notizia che va secondo me a prescindere del tifo sicuramente anche i veri tifosi juventini si vergognano per una roba del genere ieri un gruppo di cosiddetti tifosi juventini ha fatto un bruttissimo gesto non solamente secondo me contro il Torino ma proprio contro l'umanità a poche ore dal derby di Torino hanno esposto uno strescione con scritto dal 1897 la vera storia di Torino siamo noi subito sotto un altro grande telo che raffigura una zebra che infilza un toro in una corrida e la scritta è il matta toro matta viene dal verbo matar che significa uccidere ma il problema non sono stati questi striscioni ne abbiamo visto di peggio fanno parte dello sfottò calcistico non è un problema ma il problema è il luogo dove li hanno esposto proprio nel piazzale della basilica di Superga Superga è proprio il luogo dove persero la vita in un incidente aereo i giocatori del grande Torino anche se io ancora non sono stato nato mio nonno italiano mi raccontava sempre di questa tragedia mi raccontava anche sempre di questa grandissima squadra lui non è mai stato un tifuso del Torino ma ha sempre avuto grande rispetto ovviamente per la storia per le vite umane in generale ci è proprio stato uno schianto contro il terrapieno posteriore della basilica di Superga per questo motivo non è possibile che sia una coincidenza che questi cosiddetti tifosi oventini abbiano scelto proprio questo luogo e parliamoci chiaro qui parliamo di 31 vittime nessuno sopravvissuto e lo reputo davvero triste proprio triste 75 anni dopo invece di farli riposare in pace mancarli di rispetto pubblicamente io non ho parole il calcio i colori non sono niente non sono niente in confronto alla morte perciò ad avere un bruttissimo gesto devo dire anche molto autodistruttivo secondo me perché nel mio mondo che non faccio parte di nessun movimento ultra e non farò mai parte di un movimento ultra è un gesto che non ti porta rispetto nel mio mondo ma secondo me perfino nel mondo ultra che io non ho mai vissuto da interno ma da esterno spesso lo osservo e sono onesto con voi mi interessa anche è anche un mondo che mi interessa anche se non ne faccio parte dove magari uno scontro vinto in una foresta leggo spesso queste cose ripeto non è il mio mondo ma accade e magari vince uno scontro in una foresta 10 contro 10, 15 contro 15 o cose del genere ti porta rispetto nel loro mondo non nel mio ma nel loro mondo ti porta rispetto ma mancare volontariamente rispetto a 31 persone che non ci sono più invece di farli riposare sputare praticamente sulla loro memoria secondo me neanche nel mondo ultras ti porta rispetto è un gesto da infame sia nel mio mondo sia nel mondo ultras è un gesto che secondo me non ti porta rispetto da nessuna parte è solamente autodistruttivo basta di parlare di questa storia triste parliamo di calcio di calcio giocato anche se devo dire ieri nel derby di Torino abbiamo visto poco calcio giocato una tristezza una antipubblicità per il calcio italiano veramente una brutta partita ma parlando adesso di classifica anche se la Juventus da adesso in poi le dovesse vincere tutte che lo dubito fortemente noi dovessimo perderle tutte lo dubito ancora di più saremmo comunque prima della Juventus perciò con 7 partite di anticipo perché noi oggi dobbiamo ancora giocare siamo già matematicamente prima della Juventus attualmente abbiamo 82 punti la Juventus massimo può arrivare ancora a 81 punti perciò la Juventus con l'allenatore più pagato di tutta la Serie A con il monti in gaggio per distacco più alto di tutta la Serie A è una figuraccia una figuraccia non è non vincere lo scudetto in calcio può succedere di tutto ma proprio aver molato così presto cioè mancano ancora così tante partite loro hanno palesemente da settimane già molato questo secondo me proprio l'ambiente da Juventus deve farlo riflettere riflettere tanto perché hanno palesemente lavorato molto molto male rispetto al Milan invece ci mancano solamente 8 punti per vincere la seconda stella matematicamente 8 su 21 non dovrebbe essere un problema la seconda stella è già nostra la domanda solamente quando sarà nostra a livello matematico compreso il derby di Milano che se lo dovessimo vincere porterebbe i rossoneri a meno 17-5 giornate dalla fine perciò la nostra chance è molto alta se oggi vinciamo poi vinciamo anche il derby di Milano siamo campioni d'Italia adesso però parliamo di Steven Zhang mamma mia Steven cosa sei riuscito a fare meglio di così secondo me per lui non poteva andare Zhang sappiamo tutti non ha soldi non è in grado di poter ripagare il prestito di OCTRI dalle proprie tasche perciò finora rischiava davvero di perdere l'Inter OCTRI sarebbe diventata la nuova proprietà dell'Inter nessuno di noi io leggo sempre un po' gente che sembra di avere i contratti in mano che sono stati stabiliti tra OCTRI e Zhang secondo me nessuno di lui nessuno di noi conosce al 100% i dettagli del contratto stipulato tra Zhang e OCTRI ma fidatevi una cosa è ben chiara il prezzo per cui Zhang avrebbe dovuto cedere l'Inter diciamo le quote di maggioranza a OCTRI sarebbero sicuramente stati inferiori rispetto alla sua valutazione dell'Inter sicuramente perché se non fosse così Zhang starebbe bello comodo così direbbe vabbè chi se ne frega non ripago il prestito a OCTRI però loro comunque devono addirittura darmi la differenza tra il valore che io ritengo giusto per l'Inter e poi questi soldi che mi hanno prestato allora per lui andrebbe benissimo invece no è ovvio che se Zhang non avesse ripagato il prestito a OCTRI avrebbe perso l'Inter per un prezzo sicuramente minore rispetto a quello che lui spera di poter trattare con tanto tempo a disposizione magari ci sarebbe stato un ente da terzi che avrebbe non so calcolato il valore attuale dell'Inter eccetera ma sarebbe comunque stato sfavorevole a Steven Zhang dopo tutti questi anni dove Zhang ha investito tantissimi soldi nell'Inter sarebbe stato un grande flop per lui dall'altro lato ieri abbiamo ancora parlato di Arabi che potrebbero comprare l'Inter questo può ancora accadere anche con la notizia di oggi che adesso ve la spiegherò bene comunque possono ancora comprare l'Inter ma ieri e questa è la differenza fondamentale a Zhang restavano solamente 37 giorni fino alla scadenza di questo prestito con OCTRI e se uno si trova così sotto pressione fidatevi non è mai una cosa positiva se voi iniziate a trattare per qualsiasi cosa può essere volete vendere la vostra casa volete vendere la vostra auto se l'altra parte sa che voi siete sotto pressione c'è una deadline dovete velocemente vendere è ovvio che vi offrono pochi soldi perché loro sanno voi siete veramente veramente in difficoltà perciò Zhang aveva bisogno di due cose liquidità per soddisfare OCTRI è tempo la risorsa tempo soprattutto nel business spesso è la risorsa più importante in assoluto tempo per poter trattare è la notizia bomba di stamattina Zhang sembra non abbiamo ancora certezza ma sembra di essere riuscito di ottenere entrambe le cose sembra che lui abbia trovato davvero un nuovo fondo in questo caso un fondo britannico che sarebbe disposto di garantire a Zhang un prestito di tre anni di 400 milioni di euro con un tasso di interesse di nuovo attorno ai 12% 12% sono sempre tantissimi parliamoci chiaro però OCTRI sicuramente avrebbe chiesto un tasso di interesse molto più alto perché se giù già una volta non riesci a soddisfare quello che avevano stabilito prima non riesci a ripagare il prestito un fondo normalmente prende un po' di paura dice beh qui esiste davvero un rischio che lui i soldi non ce li ridà più noi sappiamo che l'economia funziona sempre così più elevato è il rischio più elevato è anche il tasso di interesse oppure il rendimento che un investitore si aspetta da un investitore se uno vuole anche a livello privato rischiare poco vabbè allora si compra le obbligazioni della Germania rischio c'è sempre nella vita non esiste niente senza rischio ma sicuramente è molto meno rischioso comprare le obbligazioni della Germania come comprare l'azione di un'azienda singola perché l'azione singola falisce entro un anno o due anni è molto più probabile come veder fallire l'intera Germania per questo motivo amici c'è sempre un collegamento tra rischio e rendimento e per questo motivo Zang con Optree sicuramente il tasso di interesse sarebbe salito molto se ci fosse stato un nuovo prestito invece questo per Zang è fantastico con questo nuovo fondo britannico se il tasso di interesse si gira ritorno al 12% Zang può dare indietro a Optree i 375 milioni di euro in questa maniera non perde l'Inter per delle condizioni che sarebbero state sicuramente vantaggiose per Optree e ha altri 3 anni di tempo per trattare e per poter magari vendere l'Inter per il prezzo da lui desiderato non per il prezzo stipolato da un ente terza ente che vede qual è attualmente il prezzo di mercato dell'Inter lui così tranquillo può trattare 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 e magari vede nessuno di noi può guardare nella testa di Zang Zang non ha mai lasciato un'intervista dove ha detto l'Inter vale esattamente quello o quello però la cifra che ci gira sono 1,2 miliardi di euro con tempo a disposizione poi adesso ci sarà anche il mondiale per club amici dove l'Inter sarà ancora una volta su un grandissimo palcoscenico la speranza di Zang con più tempo a disposizione e di poter ottenere più soldi per l'Inter e sinceramente a livello umano vi dico che se lo merita anche forse qui vado un po' contro tendenza ma lui ha investito tantissimi soldi nell'Inter ha fatto tantissimi aumenti di capitale e guardate come è messo male adesso anche a livello privato veramente senza soldi e perciò posso capirlo posso capirlo magari per l'Inter sarebbe meglio subito una nuova proprietà forte come una proprietà araba ma per Steven Zang è normale che lui prova di ottenere il meglio o almeno di limitare i danni perché i danni attualmente sono grandi fatemi sapere un po' la vostra opinione sotto i commenti amici iscrivetevi al canale youtube perché stasera parliamo ovviamente di campo stasera c'è Inter Cagliari manca sempre meno per la seconda stella perciò stasera veramente anche video post partita qui sul canale youtube vi mando un forte abbraccio sempre forza Inter ci vediamo presto con alti aggiornamenti grazie a tutti a tutti ovviamente